È di antica origine, ma fu ricostruita interamente in più modeste forme per volontà del vescovo Alessandro del Caccia nel 1610 e consacrata nel 1637. All'altar maggiore a partire da metà dell'Ottocento ha nuovamente trovato posto la tavola che ornava la primitiva chiesa. Si tratta di una sacra conversazione dipinta intorno al 1510 da Bernardino del Signoraccio e commissionata da Giovan Battista Curradi, priore di San Vitale dal 1505. Ritratto in ginocchio di fronte alla Vergine col bambino.